Scaduto il mandato del primo consiglio di amministrazione nominato dopo il conferimento dell'autonomia al Parco archeologico di Pestum, si è insediato il nuovo organo rinnovato con decreto dei ministri della cultura Dario Franceschini. Ne fanno parte oltre al direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel che lo presiede, la direttrice della direzione regionale Musei Campania, dottoressa Marta Ragozzino, componente di diritto quale direttore regionale Musei della Campania, il dottore Giovanni Garofalo, giornalista e esperto in comunicazione e rapporti istituzionali, il professor Enzo Maria Marenghi, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Salerno e confermato per il secondo mandato, il dottore Alfonso Andrea, già presidente della provincia di Salerno ed ex parlamentare, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali a Ravello. Nella relazione sulle attività svolte il direttore ha ringraziato i precedenti componenti, chiamati ad altri incarichi il professor Emanuele Greco, presidente della Fondazione Pestum e già direttore della Scuola Italiana di Archeologie ad Atene, di recente nominato membro del Comitato Scientifico del Parco archeologico Campi Flegrei e il professor Pasquale Stanzione, già ordinario di diritto privato presso l'Ateneo Salernitano, da qualche mese presidente dell'autorità garante della privacy. Tra le priorità ad affrontare il Consiglio ha individuato il coinvolgimento di sponsor e donatori attraverso il portale Art Bonus e la progettualità del sistema museale di Elea Velia, il sito archeologico che nel 2020 è stato accorpato all'autonomia di Pestum e che necessita di spazi adeguati per la conservazione e la musealizzazione delle sue importanti collezioni. Inoltre il direttore Zug Triegel ha illustrato le iniziative in atto per il recupero della ex fabbrica Cirio, impiegando l'apposito finanziamento Mibact. Il manufatto verrà adibito a spazio polifunzionale, sale convegni, mostre temporanee, didattica, esposizione, degustazione e prodotti tipici dell'alimentazione mediterranea. Mentre la prima riunione del nuovo Consiglio si è svolta in collegamento telematico per rispetto delle norme anti-covid, si prevede di tenere una prossima seduta proprio a Velia, legandola a un sopralluogo in merito alla progettualità del museo e di un masterplan per la fruizione e l'accessibilità dell'aria dove aveva sede la famosa scuola eleatica fondata da Parmenide.